buongiorno buongiorno allora ci troviamo sulla cabino via della croda rossa esattamente che diciamo che è stato un ripiego perché stamattina avevamo in mente di fare la ferrata del monte paterno alle tre cime di la varedo ci siamo alzati alle 6 ma non è stato sufficiente siamo arrivati alle 8 diciamo a misurina dove c'è lo svincolo per andare su ma i parcheggi alle 8 erano già tutti completi 700 posti quindi non facevano più andare su e c'era tanta fila per la fila ferma da misurina praticamente l'imbocco sarà un chilometro forse anche di più anche gli autobus e le navette fermi tra quindi a starsi presto non è servito niente diciamo che non è stato sufficientemente presto presto allora siamo tornati nelle nostre zone e oggi facciamola visto che ormai le cose per la ferrata le abbiamo affittate facciamo la ferrata dei costumi sulla croda rossa sulla croda rossa verrete come dire ampiamente informati nei prossimi video documentato come sempre ciao 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 con la panoramica stiamo risalendo un pezzo di ghiaione ma direi che è battuta bene questa è qui dove si vede sesto confine con l'austera e di qua passo montecroce adesso saliamo un po' ancora e poi dovrebbe iniziare il tratto attressato c'è posto se sei che moriamo per i nostri followers la preparazione la preparazione la preparazione Bye Let's do the whole night E' una postazione Come va? Piano 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 Finiscio dai Allora abbiamo un po' di nubi ma sono alte Qua abbiamo un alpinista Un alpinista Le riprese le mie lasciano un po' a desiderare E' importante che si veda la classe Molta classe Molta classe Oplà non si dice Oplà Non è proprio dalpinista No, vieni finisci No, vieni finisci Tandre No, vieni finisci No, vieni finisci Panoramica Sempre sul Passo Montecroce Direzione Passo Montecroce Devo dire una cosa importante Di Oh Marky Dimmi Di avere fiducia anche negli imprevisti Perché Oggi sul Monte Paterno Ci sarebbe stata Tantissima gente E magari E magari L'avremmo fatta Con più Con più fretta Con meno libertà Qui è meraviglioso Ci sono pochissime persone Abbiamo incontrato Cinque persone Proseguiamo Con più tu as chutei? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questo è un altro punto non attrezzato. E questo è un altro punto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Caschetto. Forse è un altro punto per aiutare da di sotto la vista. Posta sempre da cuorezza. Eccoci con tutti i resti della guerra. Ancora... E laggiù in fondo sicuramente ci sarà stato un altro punto di vista. Proviamo a vedere... Qua... Qua sicuramente deve essere solo un riparo. Ci sei? Venticello. Questa è la val fiscalina là sotto. Allora... Questa è la valentino panoramico. Questa è la valentino panoramico. Là gioco il rifugio a fondo valle. Questa è la valentino panoramico. E' la valentino panoramico. E' la valentino panoramico. E' la valentino panoramico. La valentino panoramico è la valentina. Da... Chiamare la valentino panoramico... E' la valentino panoramico. Questa è la valentina panoramico. 2829 729 e 800 metri di sviluppo diciamo che non è con una pendenza da sentire questa è la vantiscalina sotto a qua in lontananza si intravede un po' tra l'unico e l'intrecino di la varie dire che ci accontentiamo perché sennò nel tornare indietro facciamo tardi e non prendiamo la cosa e anche stavolta come il vessano e ho capito però però bisogna accontentarsi Altro video visto che adesso si vede un po' meglio e qui ci sono i miei piedi e qui sotto ho una piscale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto sotto controllo. Val Fiscalina. Guardate il verde. Stavate scendere giù lì. Puoi vedere ad Andre i bambini? I bambini. D'acqua. 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 Grazie a tutti, grazie. Perché sui sassi si scivola un po', eh? Grazie a tutti. 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 Buonasera. 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 Buonasera.